Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video unboxing. Sono arrivati un po' di pacchetti da diversi uffici stampa, ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il codice sconto 7Potter potrete acquistare tutti gli articoli che vorrete dal sito Pampling con un mega sconto. Quindi ragazzi sotto l'info box trovate i link utili. Questa maglietta che indosso oggi a tema Stranger Things arriva proprio da Pampling. Ma detto questo passiamo ai nostri pacchi perché ragazzi ci sono delle cose molto interessanti e mi è arrivata una cosa che mi ha imposto di dover fare alcune cose che davvero non pensavo avrei mai avuto il coraggio di fare nella mia vita. Una cosa che mi ha spezzato il cuore ma che andava fatta e che vi mostrerò tra poco. Ma intanto cominciamo da questo primo pacco che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal Picture Home Entertainment che mi ha inviato un Blu-ray. Finalmente la situazione si sta cominciando a normalizzare nel nostro paese e ci sono anche dei segnali di ripresa dal mondo del cinema. E infatti ecco che mi arriva questo Blu-ray, questo cofanetto Blu-ray che contiene due pellicole. Contiene Jumanji il remake e il secondo Jumanji, sempre parliamo del remake, quello con The Rock per intenderci. Io ho visto il primo al cinema e mi è piaciuto tantissimo, mi era davvero piaciuto tanto, mi sono divertito tanto, ero andato al cinema con le aspettative davvero basse e invece sono rimasto colpito. Il secondo non sono riuscito a vederlo al cinema, non l'ho ancora recuperato e quindi grazie a questo cofanetto qui che gli include entrambi andrò sicuramente prestissimo a guardare anche Jumanji The Next Level. Il secondo pacco di questo unboxing arriva da Oki che mi ha inviato due nuovi prodotti che trovate naturalmente anche in questo caso linkati in infobox. Ragazzi quanto odio questa scatola Amazon con apertura facilitata che poi è anche un po' una mezza ciofeca perché basta infilare le mani qua sotto e tirare le linguette per sabotare tranquillamente la scatola. Ma questo è tutto un altro discorso e Oki mi ha mandato due prodotti davvero molto molto interessanti. Uno è una basetta di ricarica wireless. Io ho un iPhone X e il mio iPhone è compatibile con le basette di ricarica senza fili. Io la uso da un bel po' di tempo, ne ho una di Oki che utilizzo almeno da quasi due anni e mi ci trovo benissimo. Però avendo un solo sensore al centro, quella che già utilizzo, ogni tanto mi capita di poggiare il mio telefono magari un po' più lateralmente di notte quando sono a letto e lo metto sul comodino e purtroppo mi capita che il giorno dopo il telefono sia ancora scarico perché il sensore posto al centro della piastrina non è riuscito a ricaricare il telefono, a ricaricare la batteria. Bene, Oki mi ha mandato questa nuova versione che è più grande di quella che già possiedo e in questo caso, eccola qui, i sensori sono ben tre. Ci sono ben tre sensori distribuiti sulla piastra che possono ricaricare sempre un solo dispositivo per volta quindi non è possibile posizionare più dispositivi da quello che ho capito però è molto molto più bassa la probabilità che il telefono venga messo male e che non colpisca uno dei sensori che poi andranno a ricaricare il telefono quindi in questo caso, teoricamente, il rischio di svegliarsi col telefono scarico dovrebbe ridursi a zero e sono molto molto contento di questa cosa e ringrazio tantissimo Oki. Il secondo prodotto invece è un powerbank ormai ragazzi tutti abbiamo le case piene, stracolme di powerbank io ne avrò almeno una decina sparsi per casa ma questo qui è molto molto interessante perché ragazzi, aprite bene le orecchie si tratta di un powerbank da 8000 mAh che quindi permetterà di ricaricare il vostro telefono almeno 3-4 volte completamente ma questo powerbank di Oki ha una cosa molto molto speciale quando lo porterete assieme a voi se possedete un telefono come il mio che è compatibile con la ricarica wireless basterà appoggiare il telefono su questo powerbank per poterlo ricaricare quindi non sarà necessario attaccarlo tramite cavo al telefono quando magari siete in macchina o siete al ristorante o siete all'università ma vi basterà tenere il powerbank acceso vicino a voi e appoggiare il telefono sopra per poter indurre la ricarica io lo trovo una cosa molto molto interessante molto comoda e io credo che lo userò davvero tantissimo soprattutto sul posto di lavoro visto che tengo il telefono sempre vicino a me su una mensolina sarà l'occasione giusta per poterlo caricare di tanto in tanto e appoggiarlo su questo powerbank anziché appoggiarlo sulla mensola visto che mi viene davvero complicato trovare una porta usb sul posto di lavoro dove attaccare il cavo del mio iphone quindi ragazzi lo utilizzerò per un po' magari vi farò sapere su instagram come mi trovo e per chi non mi seguisse mi trovate come antonio.seria ma adesso passiamo al prodotto che più mi ha colpito questa settimana ragazzi eccolo qui si tratta di un libro un libro che mi è stato inviato da magazzini salani e che ho divorato in un solo giorno io non leggevo davvero da tantissimi mesi neanche durante la quarantena non sono riuscito a leggere non ero dell'umore giusto ma quando ho visto che stava per arrivare nelle librerie questo volume questo volume ufficiale Netflix edito da Salani che si intitola La casa di carta l'enigma del professore io sono letteralmente andato fuori di testa sono un grandissimo fan della casa di carta ho già visto naturalmente tutte le stagioni e non vedo l'ora di vedere la parte finale della nuova rapina e ragazzi come non potevo andare a leggere questo volume che non è un semplice libro ragazzi ma bensì è un libro game ma non uno di quei libri dove dovrete andare a fare delle scelte e quindi di volta in volta andrete a scoprire pezzi diversi della trama no, non in quel senso anche perché a me quel genere di libri non piace tantissimo perché poi resto sempre col dubbio di andare a ripercorrere i miei passi e ad andare a prendere le strade alternative per andare a scoprire tutti i diversi mondi alternativi che si nascondono dentro quel libro quindi voglio sapere cosa succede per ogni scelta che potevo compiere e invece in questo caso la storia è una lineare però per poter andare avanti nei capitoli per trovare qual è il capitolo successivo perché non sono messi in ordine all'interno del libro bisogna andare a risolvere degli enigmi del professore e ragazzi io credevo fossero molto molto semplici invece per alcuni ho dovuto perdere davvero tantissimo tempo e come vi ho accennato all'inizio del video sono stato costretto a fare una cosa che mai avrei pensato di fare nella mia vita cioè ritagliare delle pagine di un libro io sono uno di quelli che non poggia neanche la punta della matita sulle pagine di un libro eppure in questo caso sono stato costretto a ritagliare molte pagine che si trovano alla fine del volume saranno almeno una ventina di pagine e inizialmente ero molto molto frenato non volevo farlo cercavo di risolvere gli enigmi senza ritagliare le pagine alla fine ho ceduto, ho ritagliato tutto e mi sono goduto appieno il libro ma di cosa parla questo libro? perché non è solamente un gioco ma c'è una vera e propria trama collegata alla serie Netflix ebbene, qui ci collochiamo temporalmente alla fine della prima rapina e poco prima della seconda infatti qui si parla del passato del professore il professore da bambino è stato ricoverato per due anni in un ospedale assieme ad un altro bambino col quale ha stretto una grandissima amicizia e col quale ha stretto anche un patto ferreo nonostante siano passati tantissimi anni e si siano persi di vista il professore non si dimentica del suo amico ed ecco che gli fa avere un pacchetto gli fa avere questo pacchetto dove è contenuto un primo indizio e la promessa è quella di seguire tutti i vari indizi di risolvere tutti gli enigmi e alla fine il professore regalerà al suo amico ben 10 milioni di euro questo non è uno spoiler perché è detto all'inizio del libro infatti è una ricompensa è un premio per questo suo fedele amico che non l'ha mai dimenticato in tutti questi anni e il professore decide di regalargli 10 milioni di euro però dovrà guadagnarseli seguendo tantissimi indizi che ripercorreranno tante tappe del passato del professore infatti saranno presenti molte lettere scritte dal professore al suo amico e noi ci ritroveremo spesso e volentieri a dover ritagliare pagine del libro per poter risolvere questi enigmi infatti ecco qui tutti gli enigmi tutti gli origami che ho dovuto ritagliare sono davvero tantissimi hanno tutti questa forma e ad un certo punto sarete costretti anche a fare questo rigami nel vero senso della parola che io infatti ho lasciato qui tra le pagine e che adesso vi vado a mostrare eccolo qui ragazzi stavo per diventare pazzo ho dovuto fare questo rigami seguendo le istruzioni per poter andare a risolvere questo enigma infatti ci sono delle lettere riportate qui sul davanti dell'origami che vanno a creare la parola Kiev perché naturalmente ogni enigma porta al nome di una città e a ogni nome di città corrisponde un numero di pagina quindi andremo a ripercorrere tantissime città tantissimi enigmi che ci porteranno a saltare tra i vari capitoli del libro ad esempio ragazzi ci sono degli enigmi dove bisogna combinare molti di questi origami tra di loro per andare a scovare numeri numeri di telefono password o ad esempio andare a comporre delle immagini andare a decifrare dei quadri che ritroviamo qui dei quadri numerici è davvero molto molto complesso qui ad esempio ne abbiamo uno dove dobbiamo andare a appoggiare diversi pezzi di origami per andare a decifrare tutte queste lettere e scoprire qual è il codice necessario per sbloccare la pagina e sbloccare il livello naturalmente ogni capitolo alla fine del volume ha degli indizi per chi si trovasse in difficoltà ci sono circa 5-6 indizi per ogni indovinello e alla fine quando proprio non riuscirete a risolvere l'enigma è presente naturalmente anche la soluzione che vi permetterà di sbloccare comunque il capitolo successivo io vi dirò la verità ho dovuto sbirciare la soluzione almeno due volte perché davvero era molto molto difficile stavo per cercare la soluzione quando ho realizzato l'origami perché era davvero difficile da fare le istruzioni secondo me non erano proprio limpidissime ma alla fine sono riuscito a farlo magari perché io non ho mai fatto origami nella mia vita però sono riuscito a realizzarlo è stato molto molto soddisfacente vi dirò la verità e ragazzi io ve lo consiglio tantissimo lo trovate naturalmente sotto in info box c'è il link ad amazon per poterlo acquistare ad un prezzo scontato a me è piaciuta sia la trama sia scoprire diverse cose sul conto del professore perché ad esempio veniamo a sapere che il professore durante la serie tv lo vediamo spesso realizzare origami credo che abbia realizzato proprio questo origami con della carta rossa nella serie tv e veniamo a scoprire il perché il professore è fissato con questi origami ma non vi voglio spoilerare nulla qualora foste interessati ragazzi vi consiglio caldamente di acquistare questo libro che poi soprattutto ha una copertina gommata che è una goduria da toccare è davvero bellissima io ragazzi ve lo straconsiglio ringrazio tantissimo salani magazzini salani per avermene inviato una copia bene ragazzi e con questo per oggi è davvero tutto spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia fatemi sapere qual è il vostro arrivo preferito di questo video unboxing io devo dire che ho un debole per questo libro e credo l'abbiate capito e ragazzi mi raccomando qualora non mi seguiste già mi trovate su instagram come antonio.seria detto questo come al solito vi chiedo di commentare lasciare un mi piace iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti condividere il canale con i vostri amici mi raccomando in infobox trovate anche tutti i link utili come il mio negozio amazon a tema nerd dove troverete intere sezioni dedicate a harry potter running press noble collection tutto selezionato accuratamente da me e ragazzi resto a vostra disposizione per qualsiasi informazione noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao 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 Grazie a tutti.